180 il 29 agosto, 210 il 5 settembre. È stata così un'altra domenica di vaccinazione per i cittadini stranieri al Teatro Tenda di Arezzo. I cittadini stranieri stanno rispondendo all'appello dell'Asla Toscana Sud-Est per la vaccinazione, commenta Stefania Maggi, responsabile della medicina interculturale dell'azienda. Il Teatro Tenda continua a registrare alte presenze sia di quelli che si sono prenotati sia di coloro che arrivano ad accesso diretto. Domenica prossima organizzeremo un altro appuntamento vaccinale. L'area geografica di provenienza è in modo particolare il subcontinente indiano e stanno crescendo le presenze di africani, soprattutto nigeriani. Vaccinazioni destinate in modo particolare agli stranieri anche in Valdarno. Nella sede del distretto a Montevarchi. Qui si sono vaccinati in 150 lo scorso 29 agosto e un'altra seduta è stata programmata per il 12 settembre. L'idea di aprire le sedute vaccinali, di semplificare le procedure e di garantire una figura fondamentale, quale quella del mediatore culturale, commenta Maggi, ha consentito di vaccinare un gran numero di persone. Molti si erano vaccinati nelle normali sedute, ma con queste straordinarie raggiungiamo cittadini che probabilmente non si sarebbero vaccinati a causa delle difficoltà linguistiche.